I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti di otto soggetti, di cui tre posti agli arresti domiciliari e cinque destinatari di obbligo di dimora e dell'interdizione dall'esercizio e la professione in campo assicurativo per sei mesi. Gli indagati, in totale nove persone, sulla base degli elementi probatori allo stato raccolti, sono indiziati a vario titolo dei reati di associazione a delinquere, esercizi abusivo dell'attività assicurativa, accesso abusivo alle banche dati e truffa assicurativa. Le indagini condotte dagli specialisti del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Gruppo Tutela Mercato Beni e Servizi, hanno consentito di ipotizzare uno strutturato meccanismo illecito finalizzato alla realizzazione di truffe a danno di compagni assicurative e dei cittadini contraenti. Il presunto sistema illecito sarebbe stato attuato mediante la stipula della polizza assicurativa nei confronti del contraente in buona fede che versava il corrispettivo previsto, lì inoltre alla compagnia assicurativa della polizza, ma con dati alterati, per corrispondere a un premio minore per consentire agli indagati di beneficiare indebitamente della differenza tra il premio corrisposto al contraente in buona fede e quello effettivamente versato alla compagnia assicurativa. In alcuni casi, inoltre, a seguito dell'incasso del corrispettivo e dell'emissione della polizza RCA, la stessa sarebbe stata annullata immediatamente dopo la consegna al contraente, lasciando la macchina priva di copertura assicurativa. L'ipotizzato meccanismo fraudolento si sarebbe basato sulle false attestazioni di residenza dei contraenti presso comuni connotati da un parametro tariffario più vantaggioso, alterazione dei certificati allo stato di famiglia per far risultare il sottoscrittore della polizza convivente con persone rientranti in classi di merito più favorevoli per usufruire delle agevolazioni previste dalla cosiddetta legge Bersani. Al fine di reperire i dati utilizzati per la predisposizione della falsa documentazione, gli indagati avrebbero effettuato anche accessi non autorizzati alla banca dati dell'Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici. Attualmente sono oggetto di contestazione nei provvedimenti notificati ai presunti autori delle truffe 238 polizze irregolari. Quattro degli indagati infine risultano percepire direttamente o tramite il proprio nucleo familiare il reddito di cittadinanza, beneficio che in conformità alle disposizioni veggenti verrà immediatamente sospeso.